Dottore Greco, parliamo delle patologie che interessano i reni. Quali sono? Il rene è un organo che purtroppo può andare incontro a varie patologie sia di carattere nefrologico sia di carattere urologico. Gli aspetti nefrologici ovviamente sono legati alla perdita di funzione del rene, quindi alla dialisi. Gli aspetti invece urologici sono molto più complessi ed possono interessare uomini e donne di qualsiasi età, dai 2 anni fino ai 90 anni. La classica patologia benigna che è tipica dei giovani è il restringimento dell'uretere in prossimità del rene, quindi ciò che viene definita stenosi del giunto piedureterale, che è caratterizzata dalle colliche recidivanti in assenza di calcoli, e che prevede comunque una ricostruzione dell'uretere, cioè asportare quel tratto un po' più stretto e ricostruirlo sul rene per garantire la normale funzionalità del rene. Poi tipico delle giovani donne, soprattutto di ragazze che perdono molti chili, è la cosiddetta aptosi renale, cioè un rene ballerino che si muove tra posizione, diciamo, sdraiata ed in piedi. E anche in questo caso si interviene chirurgicamente, andando a fissare il rene al muscolo posteriore. E poi ovviamente abbiamo la calcolosi, quindi tutta una patologia legata ai calcoli renali, ureterali e vescicali, ed ovviamente i tumori renali. Per quanto riguarda le donne che perdono molti chili, perché avviene questo spostamento del rene, questo movimento del rene? Perché c'è una perdita del grasso per il renale, che è un assottigliamento, quindi questo grasso, che può determinare un cattivo ancoraggio del rene. Se si fa sport si può evitare questo danno o no? Spesso no, nel senso che lo sport ovviamente è importante perché va ad aumentare la massa muscolare anche nella donna, quindi a dare più tono muscolare. Però perdendo velocemente molti chili in breve tempo, questo fenomeno può verificarsi. Quali sono i tumori che riguardano il rene? Ma il tumore più comune è ciò che gli inglesi definiscono renal cell crassinoma, cioè il tumore a cellule chiare. È un tumore che, come tanti altri tumori asintomatico nella fase iniziale, viene scoperto in maniera occasionale durante un'ecografia o durante un'attack. E quando invece raggiunge dimensioni più importanti o comunque arriva ai calici del rene, dà il classico sintomo dell'ematuria, quindi di sangue nell'urina. Altri sintomi sono rappresentati da un dimagriamento improvviso o senza spiegazioni, ad fatica, quindi sentirsi stanchi spesso, senza apparente causa, ma soprattutto l'ematuria è il sintomo del classico di un tumore in stato avanzato.